Oggi iniziano gli internazionali BNL, una conferenza importante che punta sulla sostenibilità. Sì, la sostenibilità ormai va di moda, ma c'è tanto parlare e invece ci sono per fortuna tanti progetti operativi. Oggi abbiamo visto questo progetto che cerca di dare le stesse opportunità a tanti ragazzi, a tanti ragazzi che potenzialmente potrebbero diventare campioni di tennis, ma che per condizioni disagiate di partenza non hanno questa possibilità. L'inclusione sociale fa parte della sostenibilità, così come la riduzione dell'inquinamento, così come la lotta al cambiamento climatico, per cui onore a coloro i quali, avendo capito questo, si impegnano concretamente per non lasciare nessuno indietro.